suona l'allarme nell'ufficio dell'elfo capo i contatori dei livelli degli elementi sono fuori scala cosa stanno facendo gli elementi andrò a vedere mano sinistra verde no ti sbagli continuano a litigare ma le conosci le regole non ti ascolto elementi come punizione per non aver fatto il vostro lavoro andrete in prigione non è giusto terra continua a infrangere le regole basta venite qui è solo colpa vostra andate nelle vostre celle e pensate a quello che avete fatto di sbagliato sono furiosa martin è così carino prigione seriamente dobbiamo uscire ma come lo so io rompiamo la serratura ti aiuto proverò a fonderla non ha funzionato provo ad aprirla io non funziona ma ora è bella grande certo idea possiamo fare un vulcano insieme uniamo le forze taglia un pezzo di una candela scura lima i bordi per dare forma al cratere di un vulcano mettila su carta da forno e sporcala di cera nera fusa versa la cera gialla fusa nel mezzo come lava e fai delle gocce di lava calda con la cera rossa fatto ora aggiungiamo il fuoco l'eruzione scuote tutta la prigione ma la serratura è ancora lì abbiamo bisogno di aiuto acqua ci sei? hanno bisogno di noi ehi versa l'acqua sulla serratura arriva è andata in cortocircuito ups chi ha spento le luci? cercate di nuovo di scappare? vi faccio vedere io oh la freccia è volata via perché siete così rumorose? smettetela! fuoco ha scritto una nuova canzone super bollente non lo sopporto più mi servono le cuffie piega una striscia di carta crespa fai dei tagli verso il centro avvolgila per creare dell'erba decorativa rivesti una custodia per cuffie ah! il suono della foresta! così rilassante! fuoco! abbassa la voce cuffie! cuffie? ehi! terra! terra! terra non mi sente! terra! che c'è? niente cuffie in prigione le requisisco chissà cosa sta ascoltando la foresta è così bella! amo ogni singolo albero ogni singola foglia chi è questo? un orso! ti amo orso! unicorno! sto arrivando! si comporta in modo strano qualcosa non va la natura è bella basta annusare queste foglie ah! il paradiso! vieni unicorno! abbracciami orso! la vita è meravigliosa! smettila! oh! riprenditi le tue cuffie! la mia musica farà addormentare la guardia infila diversi cristalli decorativi su una corda scintillante crea diversi fili uniscili e incollali su una nuvola di perle aggiungi un anello soffierò forte per farlo dormire ma il vento si è trasformato in tempesta! ops! aria! che fai? mi dispiace! non volevo! dobbiamo fare qualcosa! c'è vento oggi! ciao edward! la guardia è nell'occhio del ciclone! cosa sta succedendo? smettila! aria! ci soffierai via! penso di avercela fatta! e non farlo mai più! è così divertente! potrei guardare Troom Troom per sempre! oh no! il mio telefono è morto! come posso ricaricarlo? idea! aria! attacca questo alla tua turbina eolica! voglio caricare il mio telefono! ok! wow! funziona! grande! dove ero rimasto? yeah! Blue! perché mi hai spaventata? ho un cortocircuito! grande! ora il mio telefono è rotto! ehi! posso avere dell'acqua? sì! te ne verso un po' nessun problema! grazie! terra! potresti darmi delle foglie di tè? certo! è bergamotto, vero? aha! fuoco! fai bollire l'acqua! ok! ah! scotta! grazie! tè caldo! oh! mi son bruciato la lingua! aria! raffredda il mio tè! basta così! grazie! più edera c'è e meglio è! edera è stupida! ma il fuoco è fantastico! fatemi dare un'occhiata in giro! nascondi qualcosa? hey! scotta! fuoco! so cosa stai facendo! ora controlliamo il letto di terra! è morbido! oh! lettera! mi sto mangiando! portala via! ups! non è divertente! cos'è questo fungo? fai il cappello di un fungo con l'argilla leggera! fremi un tappo di plastica! crea delle venature! aggiungi grandi macchie sulla parte superiore! rivesti un contenitore di plastica con un colore diverso di argilla! fai il gambo del fungo con la pancia e le maniglie! fai una maschera per il viso con fango nero e gel di aloe vera! riempi il contenitore! dipingi il fungo! coprilo con lo smalto spray! non toccarlo! ma c'è qualcosa lì dentro! lo prendo io! l'ho aperto! una maschera per il viso! no! non farlo! mi sono trasformato in fungo! portalo via! non arrabbiarti! è un'ottima maschera! solo che non è per tutti! amo la nuova canzone delle sirene! mescola diversi colori di argilla leggera! attaccali su una cover! modella una conchiglia usando un po' d'acqua! lasciala asciugare per 24 ore! infila una piccola antenna nella parte superiore! dipingi! dammi quella conchiglia! tieni questo! un telefono? con un'antenna? cosa stai ascoltando? il canto della sirena ha un effetto ipnotico! è in trance! possiamo scappare! cosa? senza soldi! ehi! dove andate? ridammi il mio arco! ci è mancato poco! oh che noia! idea! girerò il mio cartellino per dimostrare che controllo gli elementi! lo proverò! dipingi di nero un ciondolo di legno fai un gradiente usando i colori dei quattro elementi fai un disegno geometrico ripassa con vernice acrilica argento incolla quattro simboli di gomma piuma metti il centro di un fidget spinner al centro incolla un pezzo più piccolo che rappresenti gli elementi e attacca una catena fuoco! brucia! fuoco! spegniti! ma da dove arriva l'acqua? che succede? via da qui! gli elementi si scambiano i poteri! ah! soffierò forte! ah! fuoco! oh no! questo è divertente! e ora che succederà? è l'ora della doccia! cosa? terra! ma com'è? oh! è così divertente! salverò questi fiori! tornate in vita! oh no! il vento li ha distrutti! amo questo gioco! ehi! smettila! ok! non lo farò più! mettete le manette! sono belle! aria! le tue manette! non ne ho per acqua! credo che userò quelle normali! brutta idea! cosa? chiamerò la mia amica sirena! ho bisogno di aiuto! grazie! ecco il pacco! incolla il velcro sulla gomma piuma! decora con pietre, perline, perle e paillette! dipingi i lati in argento fai due manette uniscile con una catena provale! forza ragazze! non avete tutto il giorno! dobbiamo camminare in cerchio? terra mi dà fastidio! smettila di parlare! questi elementi sono così esigenti! ci deve essere un'uscita qui! un portale! sì! sono acqua e aria! venite qui! siamo insieme! ma ancora in prigione! diamo una lezione a quella guardia! uniamo le forze! è il tuo turno di essere rinchiuso! andiamo! oh no! fatemi uscire! volevo solo aiutarvi! ti è piaciuto il nostro video? scrivi qui sotto quale elemento è il tuo preferito! e metti un like al video iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo esilarante video di Troom Troom!